Salve a tutti quanti, io sono Terrenos e benvenuti a questa analisi di Apache Notes 8.5 Questa è la patch che arriva il mercoledì 7 marzo 2018 Visto che qualcuno poi magari pensa, eh ma arriva domani, è già arrivata È disponibile, se state guardando questo video è disponibile, 100% Allora, cominciamo col fatto che Kaise è stata rilasciata Dovrebbe essere rilasciata o oggi o domani Non si capisce se effettivamente verrà sbloccata istantaneamente O se verrà sbloccata qualche giorno dopo o magari anche solo 8-10 ore dopo Dicevo, semplicemente vogliono essere sicuri al... Quindi, in generale, a livello di client non dovrebbero esserci effettivamente problemi E se non ci saranno effettivamente problemi Semplicemente aggiorneranno il gioco e sbloccheranno Kaise Andiamo avanti con Azir, con i danni del tumulto delle sabbie I danni della Q sono stati diminuiti Per un semplice motivo, al momento in competitive Azir è maledettamente forte Ed è ingestibile per la maggior parte dei mid laner Andarlo a tenerlo sotto controllo è necessario per ampliare la possibilità Ad altri campioni di giocare in corse centrale Molto semplicemente Ed è lo stesso discorso per quanto riguarda questo bilanciamento Anche Galio è un campione che a livello competitivo gli viene data alta priorità Perché è troppo facile andare semplicemente con una build Con la maschera abissale, che è molto neutro come oggetto E poi puntare a danno diretto A questa maniera vogliono costringere a costruire più cooldown reduction Il prima possibile e anche più mana Proprio perché aumentano il costo del mana e il tempo di ricarica E non solo, dovendo costruire più squishy Dovendo costruire proprio oggetti da maghi Quindi più squishy Diventa più fragile E diventato più fragile diventa Meno appetibile Mettiamola così Quindi dovrebbe andare a sestare un bel colpo A livello competitivo di Galio Più che altro perché 130 mana è veramente tanto Sono 40 di mana in più per ogni Q Una volta arrivato a livello 9 Due secondi in più sono ok come bilanciamento Nel momento in cui ci inserisci abbastanza cooldown reduction Non è un cambiamento così grande Ma è il 130 mana che fa la differenza Questo cambiamento serve per indirizzare una build Che ti dia più mana e cooldown reduction Ed è quello che gli serviva Semplicemente non permettergli di fare quello che vuole Con poca cooldown reduction E tanta ability power E poco mana Andiamo avanti con Jin Che al momento, povero Jin È messo in una situazione non terrificante di più Jin è in generale Un campione difficile da bilanciare Nel momento in cui è forte È veramente forte Nel momento in cui è debole È veramente debole Ma è stato debole per davvero tanto tempo E ora sono un po' stufi Non stufi Di questa situazione Semplicemente si rendono conto che non ha senso Tenerlo equilibrato in questa maniera E quindi vogliono provare a dargli una bella spinta Per rimandarlo un po' in gioco Per rimetterlo un po' in gioco effettivamente La passiva Dà un bonus innato di attacco fisico Maggiore Già dal livello 1 Si passa dal 2 al 4% Poi negli ultimi livelli È 44% di attacco fisico totale In generale Quindi dovresti avere Molta più attack damage In ogni fase del gioco Perché comunque è aumentata Anche ad ogni livello Per proporzionare E ribilanciare Attorno al fatto che La ottieni su ogni livello E dovrebbe essere efficace Soprattutto in late game Quel 4% di più suona poco Ma invece farà differenza Ad esempio anche considerati Draghi infernali O comunque Build pesantemente Basate sull'attack damage Vedrete Farà differenza Più l'ispirazione improvvisa Che adesso ha uno screening Con l'attacco fisico totale Più improntato Maggiore Che quindi Ti porta ad avere una build Più improntata Sull'attacco fisico E sull'attack damage E non su Ad esempio Un infinity edge Due oggetti di attack speed Sì l'attack speed Poi ti amplifica L'attack damage Ma in generale Avere più attacco fisico Totale Risulterà Migliore Certo poi ci sarà Un equilibrio Ovviamente Tra attacco fisico E velocità d'attacco Perché vi ricordo Passiva di Jin Velocità d'attacco Vuol dire avere più Attack damage Infine Che questa è la cosa Più figa per Jin E tutti lo volevano Da sempre Il florileggio letale La W Il deadly flourish Mobilizza il primo campione Colpito Se è stato recentemente colpito Da qualsivoglia Fonte di danno di Jin Che tu lo colpisci Con la E Che tu lo colpisci Con la Q Che tu lo colpisci Con un autoattacco Che lo colpisci Con l'auto ultimate Se poi Tiri il florileggio letale E lo colpisci Blocchi l'avversario E finalmente Direi perché Una delle combo Che tutti hanno sempre Voluto fare È lanciare la Q E poi immediatamente Dopo la W Che lo rende Un pochino Più utilizzabile E non di poco Ma veramente tanto E meno male direi Nocturne È un jungler aggressivo Che non si vede Molto di recente In generale perché Uno Quando esce dall'aver pulito I campi da giungla È troppo basso di vita Due La sua ultimate È tipo Eh È tipo Ma In generale questo campione Non è che è malvagio È che c'è qualcuno Che fa il suo lavoro meglio E quindi cominciano Con una serie di buff Proprio improntati A tra virgolette Tenere sotto controllo Quelle che sono Le sue debolezze Perché erano Troppo accentuate Cosa succede? La guarigione di base Sale Effettivamente Sale effettivamente Ad ogni livello Parte da 15 Non più da 10 E Sale ad ogni singolo livello Non a livello 1 A livello 7 A livello 13 È una grossa differenza Perché comunque sarà Una curva Un pochino più smooth Un pochino più Soffice Da affrontare Per Nocturne Non è che avrà A livello 1 È un modo A livello 7 Cambia totalmente E poi a livello 13 Cambia ancora Di un grosso valore Sarà La senti Lo si sentirà Vedrete Vedrete Già anche per il fatto Che parte con un valore Di base Più alto E scala Con un valore di base Molto più alto A livello 18 Inoltre Il tempo di ricarica Si riduce di 2 secondi Se colpisci un campione Questo lo aiuterà A livello di gank Perché magari Spesso volentieri Cosa succede Durante una gank Vieni counter gankato E avere Una forma di sostegno In più Grazie alle lame dell'ombra Non è per niente male Considerato anche La quantità di cura Che è stata aumentata Ne vale la pena È buono È buono È molto buono La Q La velocità dei proiettili È stata aumentata di 200 Vuol dire che la Q Del portatore del crepuscolo È più veloce E torna comodo Per alcuni casi limite In cui ci sono campioni Ad alta mobilità Che non riesce a colpirli Se si muovono correttamente Rendendolo più facile Da colpire Rende più efficace Il modo in cui Nocturne ingaggia Un avversario Prima della ultimate E questo è interessante Se avessi la tenebre attiva Quando Nocturne lancia Nuovamente Paranoia Per scattare verso il bersaglio Rimane attiva Fino a che Nocturne Raggiunge il suo bersaglio Che cosa significa Che tu puoi lanciarti Sul tuo avversario Con lo scudo up E non scade Mentre stai viaggiando Con lo scudo Lo scudo rimane Finché non raggiunge Il bersaglio Questo è importantissimo Perché permette Di negare Molti dei counter Engage Di cui soffre Nocturne Che è una cosa Molto importante E inoltre Paranoia adesso Ha un blackout Di 6 secondi E non di 4 Anche se Non è questo Grande cambiamento Olaf non l'ha capito Per quello buff Sarò sincero Per un motivo Al momento in Corea Viene già utilizzato Come jungler In maniera molto efficace È veramente Una macchina da guerra Se lo metti Nelle mani giuste Peanut Per fare un esempio E questi sono buff diretti Cioè Sono buff diretti Il tempo di ricarica D'attacco temerario È ridotto di un secondo Che già si riduceva Ogni volta che autoattaccavi Qualsiasi cosa Il rapporto Con l'attacco fisico totale È aumentato Così che ringrazia Semplicemente Buildando la black cleaver La mannaia oscura E Ragnar Che adesso Dà meno attacco fisico bonus Fisso Quando l'attivi Ma Olaf Ottiene anche il 30% Attacco fisico totale Come attacco fisico bonus Per tutta durata Cosa? Perché? Perché? È proprio una cosa No È folle Nel momento in cui Prende un minimo vantaggio Olaf qua Diventa una schiaccia sassi E fa quello che vuole È terrificante Questo cambiamento Cioè Non capisco la logica Vi giuro È una cosa Che non comprendo Già stava trovando La sua dimensione nuova Adesso Olaf sarà Per il livello competitivo Più che altro Sarà veramente da perma Non lo comprendo Vi giuro Mi lascia interdetta Come cosa Poi qua Ragnar Ha tutta una serie Di cambiamenti Che sono Praticamente Vi spiego Quando è stato Reworkato Ragnar Hanno modificato Certi numeri Per renderlo Un pochino più equilibrato Ma erano Numeri molto piccoli Che influenzavano Il modo in cui funzionava E non Il danno brutale effettivo Escludendo questo Della Q Questo è un danno È un danno aumentato Gratuitamente Proprio Ma in generale Tutti gli altri cambiamenti Se si vanno a vedere Uno per volta Sono Un tornare A quelli che erano I numeri precedenti Sui singoli funzionamenti Esempio Il tempo di decaduta La ferocia Era 8 secondi Prima del rework È stato diminuito a 6 Perché hanno cambiato Il sistema Delle stack di ferocia La sua vita Autosata per ottenere Massimo ferocia È bloccato Questo Chiaro Dosata a blocco Per Q e D Adesso è sceso Da 0,25 secondi A 0,1 secondi E È un po' Perché? È questa la cosa Che mi lascia interdetto Non era messo così male Capisco l'idea Di renderlo più fluido Da usare Ma allo stesso tempo Mi viene a pensare Ragazzi Introduceteli Reintroduceteli Uno per volta Non tutti insieme Almeno Capisci effettivamente Dov'è che puoi bilanciarlo Dove puoi tenerlo Sotto controllo Mi lascia un po' così Poi vabbè Rise Nell'ultima patch In solo Q È stato radito Da 41 A 48 Per cento Di win rate Che Per dire Rise ragazzi È un campione Che viene usato in competitivo E dovrebbe essere complicato Da utilizzare In solo Q Quando giochi anche da solo Era diventato Molto più facile Da utilizzare E che cosa fanno Flussi incantato Hanno aumentato Il danno base Nei primi tre livelli Per un semplice motivo Perché questa maniera Che cosa fai? Metti il danno Da dispersione Che viene ridotto E quindi Dare fastidio Arrassare Il tuo avversario Continuando a spammare E Non significa Che gli fai tanto danno Ma gliene fai poco La E diventa Un metodo Uno strumento Per poter O bloccare Per più tempo Il tuo avversario O danneggiarlo di più Con la Q Non un metodo Per danneggiarlo direttamente E tenerlo lontano Dall'ondata di minion Non solo Il portale di reami Ha 180 secondi di cooldown E questo vi giuro Lo guardo e dico Davvero Pensi sia questo il problema Non il fatto che Arrivato un certo punto Non puoi più Abbatterlo in uno contro uno Ok Questo Non lo scudo Non il danno Della cui Sinergia il flusso incantato No Questo Ok Va bene Shyvana semplicemente L'hanno L'hanno ribaffata E questo qua È il nerf Che l'abbiamo fatto Nell'ultima patch Cancellato Perché se non Tresi conti Di aver fatto una cagata Grande Riot Scarnel La durata D'osordimento È stata ridotta Di un quarto Di secondo E ci può stare È tipo Non lo so Perché Su tutto questo Punto di vista Ci sono Tante cose Che puoi Nel fare Di Scarner Questo Una delle cose A cui è forte Tipo Ok E questa è la cosa La Riot Ha sempre bilanciato Il gioco Attorno a I campioni Devono avere Delle grandi Debolezze Ma anche Dei grandi punti Di forza E adesso Stai togliendo Uno dei punti Di forza Di Scarner What? Mi lascia Confuso È solo questo Non è Che io Critico La cosa È che A me va bene Sono contento È un buon nerf Ma È incoerente Con quello Che spesso e volentieri La Riot Annuncia e parla Perché sono Punti di forza Che sono stati Introdotti apposta Perché ne aveva Troppi punti Debolezza E glielo Rinerfi Sono un po' Sween al momento Era una totale Ciofeca E uno dei motivi Era che i primi Sette livelli O otto livelli O otto livelli Dai I primi otto livelli Era terrificante Da utilizzare Uno perché La mano della morte Ha un cooldown gigante I primi tre livelli Aveva un cooldown stupido Cioè Sette e mezzo Seventicinque Cinque Era enorme Per un campione Che in early Non ha Cooldown reduction Adesso con questo cambiamento Voi direte Eh ma non cambia nulla Cioè Poi nei livelli Più avanzati Al livello 4 Livello 5 Dell'abilità Non c'è praticamente Cambiamento Cioè mezzo secondo Sul livello 4 E'abilità Ma sono questi tre livelli Cioè sono livello 1 E livello 3 E livello 5 Livello 1 Livello 4 Livello 5 Del campione Che fanno la differenza Perché una volta raggiunto Questo livello Una volta raggiunti Questi livelli Superati questi livelli Sei a posto Questo era Il modo di fare prima Adesso è già a posto A livello 1 5 secondi È giusto È bilanciato Ci sta Devi pensare a ragionare bene Come utilizzare il mana Però È giusto che sia Così basso il cooldown Perché se io prendo vantaggio Magari in primo livello Faccio una giocata aggressiva E ottengo first blood Non posso avere un cooldown Così grosso Non posso dovermi basare Non essere premiato Per il fatto che riesco A snobbollare Durante i primi livelli È quella la cosa Non posso nemmeno Riuscire a snobbollare Perché è troppo difficile E mi piace un sacco Questo cambiamento Non perché voglio giocare Swain E impararlo Ma perché mi piace Effettivamente il cambiamento Anche visione dell'impero Qua Qua è un E questo È una delle cose Che a volte sbaglia Raiut a comunicare Quando tu comunichi Il raggio Che dici Da 2.65 A 3.25 Ok Se metti un disegnino Accanto della differenza Si percepisce tantissimo Invece 60 di raggio in più Che vuol dire 120 di diametro in più Non è poco Non è per nulla poco È veramente tanto Il cerchio Diventa al 20 Ok Per fare un Un esempio più pratico Il Il diametro totale È da 530 A 650 È come aumentare Del 20% La forza di un'abilità È forte Come cambiamento Molto forte Non è per niente Una cosa sottovalutare Poi Preghiera maledetta Aumentata per rispondere La grafica Da 70 a 100 Semplicemente Cosa hanno reso Hanno reso più facile Da colpire la E Perché la grafica Arrivava fino a un certo punto Ma a volte non colpiva Perché la mano Era più grossa Dell'effettivo range Dell'abilità E semplicemente Ora riflette meglio Il range dell'abilità Risolto un bug Per il quale Preghiera maledetta Iniziava il ritorno In ritardo di un frame Cosa che fa poca differenza Tranne i giocatori competitivi Risolto un bug Per il quale Preghiera maledetta A volte non immobilizzava Il bersaglio primario Colpito dalla fase di ritorno E spiego il perché Che cosa succedeva Semplicemente A volte Non lo bloccava Perché quell'unità Faceva dei comandi D'attacco Nel momento In cui effettivamente Attaccava Swain Cioè se Swain Lanciava la E La E colpiva l'avversario Ma l'avversario Stava colpendo Con un'abilità Con un attacco Qualcosa Non veniva colpito Non immobilizzava Il bersaglio primario A fase di ritorno Tutto qua Era una cosa Che si è vista Su Reddit E quindi Volevo rendervi parte Poi l'ascensione demoniaca Ora l'esplosione demoniaca Passa attraverso i campioni Questo è molto importante Questo è molto importante Rende molto più forte Utilizzare questa abilità Perché Trapassare i campioni Vuol dire che In un teamfight È molto più efficace Effetti come E muro di vento di Oswe E indistruttibile di Brom Continuano a bloccare La porzione di esplosione Che intercettano Quindi comunque Muro di vento E indistruttibile di Brom Sono comunque Due abilità Che bloccano Totalmente L'ascensione No l'ascensione Ma l'esplosione demoniaca Non solo Ho risolto un bug Per il quale l'indicatore La ricarica della superma di Swain Veniva visualizzato Come sempre disponibile Per gli alleati Molte volte Che cosa succedeva Entravi in teamfight Non avevi la ultimate E la gente diceva Ma what the fuck Ce l'hai la ultimate Cosa che non era vera Tristana E questo vi giuro Quando l'ho letto Mi sono sentito preso Per il culo Hanno ridotto Il range Di 25 A livello 1 Ho ridotto Di range Il livello massimo Di 8 8 in totale In meno E il salto razzo Fa 25 danni in più Mi prendi per il culo Mi È una presa per il culo Con questo A livello 2 Tristana fa più danno Di prima Tristana a livello 2 Fa all in Anzi ora lo fa meglio Non le capisco Questi cambiamenti Non è Non è il range Il problema Allora Il range può essere Un problema Se tu decidi Di risolverlo Nerfando il range La situazione è semplice Glielo squarti Nell'early game Nella serie Proprio vai a 500 Vai a 475 E poi lo porti A 661 Proprio che così Quando è in fase di corsia È una pattumiera Vivente di campione È così che crea Un punto di debolezza Un campione Deve essere bilanciato Tra punti di debolezza E punti di forza Tristana Allo momento Manca un po' Manca punti di debolezza Ha solo punti di forza Perché In early game I primi tre livelli È forte Mid game È discreto Ma comunque Non è malvagio Perché non è troppo costosa La build E poi Le game è forte Perché ha un range Veramente alto Il problema è che Il modo in cui lo risolvono È Riducono Riduciamo il range Così che Le diamo un punto Di debolezza Un pochino più accentuato Durante le fasi Iniziali della partita E poi Vai a togliere Quella debolezza Perché gli dai Un'abilità Che a livello 1 Fa 85 danni Quando si sa che già A livello 2 Di Tristana È stupidamente forte Perché? Cosa hai ottenuto così? Non hai bilanciato il gioco Anzi Perché Allora Per farvi capire A livello 2 Tristana Prima aveva 557 Di range A livello 2 Adesso ne ha 533 24 di range Di differenza Non li noti A livello competitivo Forse li noti In solo Q Questo cambiamento È Tristana Ha appena ottenuto Il 2% Di un rate gratuito Ok Va bene Danni base Dele aumentati Perché anche qua Twitch L'aveva nerfato Letteralmente A caso Non so per quale motivo L'avessero nerfato Nella parte precedente Avevano paura Era un nerf preventivo Lo capisco Quello Ma era tipo Nessuno Dava indicazioni Sul fatto che sarebbe Stato broken Tipo Ok Il rugito maestroso Aumenta L'inimente La velocità Ma indignisce La durata Del respingimento Che cosa vuol dire? In pratica C'è L'animazione Il modo in cui L'animazione Della E di Volibert Stava funzionando È che Durava molto di più Il crowd control Di quello che effettivamente Doveva durare Adesso E' un po' più fluido L'animazione E dura in maniera corretta Poi Zoe Che qua Molti diranno Eh ma perché Ribaffano Zoe? Avevano già detto Che nerfavano Zoe Talmente tanto Nella patch 8.4 Così che potevano decidere Che cosa va a fare Per renderla forte In alcuni punti di vista È debole in altri Ora Con calma Si sono resi conto Gittata di autoattacco Possono va a farla Un pochino Di 25 Perché ci può stare È giusto Che abbia un minimo Di range Autoattacco Il danno base Della Q è stato aumentato Di nuovo Che ci può stare Fermi I danni base Di stella vagante Aumentano di 7 8 10 Che cosa significa questo Questo è un cambiamento Importante I danni base Aumentano con i livelli Del personaggio Con i livelli Del personaggio Che ci può stare Va benissimo È giusto Perché questo le permette Di scalare il leg game In maniera corretta Il rapporto col potere magico È stato triplicato Che ci può stare Perché Arriviamo al perché Ci può stare Non infligge Più i danni Della passiva Più scintilla Al primo bersaglio colpito I danni Delle esplosioni Sono dell'80% Che cosa significa Adesso Prima La Q di Zoe Applicava il danno Della Q E della passiva Di Zoe Il fatto che ora Non utilizzi più I danni Della passiva Vuol dire Che puoi buffarle Renderla più bilanciata Come spell A se stante Perché non sono Una spell E una passiva Che insieme funzionano Sono una spell E basta Capito il ragionamento? Non è un buff enorme È un E qui Un bilanciamento Questo E ci sta Va bene così È giusto che sia così Poi il furto magico La portata dell'aggancio Dei nemici È di 525 a 550 La luce baffa L'aggita Delle Zoe Che ci può stare I danni invece Sono stati leggermente aumentati Cioè di 5 Brutale Brutale E il rapporto Col potere magico Ha aumentato Del 25% Scarso Ci può stare Che voi dite 25% E leggete Punto 15 Di differenza È perché È il 25% Da quello da cui parte Da 0.6 Passa a 0.75 Se andate a vedere Il 25% Di 0.6 È 0.15 Giusto perché Se no poi qualcuno Si confonde Tutto qua Molto semplice E pulito Sia chiaro Non voglio creare casini Sion L'urlo di massacro L'hanno risolto il bug Per il quale ha portato i danni A passaggio di urlo di massacratore Era molto più ampia Dovuto E i mostri a giungla Lanciati all'urlo di massacratore O replicano correttamente I danni ai capi di nemici Quindi Molto semplicemente Adesso Non è a prova di scemo Colpire la E di Sion Quindi Ciao Sion È stato bello Questo Non me lo aspettavo Sinceramente È un po' triste Che l'abbiano già fatto Il moltiplicatore di danni Contrattori Non si moltiplica più Con quello conferito A mano del barone E sui minion D'assedio Cosa significa Semplicemente Prima sinergizzavano Troppo bene Lo standard del comando E il potenziamento del barone Adesso aumenta comunque I danni Poteva applicare Lo standard del comando E la mano del barone Su un minion Ma non è così Opprimente Lo trovo un po' triste Non era una strategia Così Drammaticamente forte In Corea Non si è la soccacata Di striscio La gemma del colosso Cinerio Sono felicissimo Di questo cambiamento Perché il modificatore Percentuale Sua lute bonus Scende da 20 a 15% Che cosa vuol dire? È un nerf Al meta dei tank jungle Perché se tu prendi La gemma del colosso Cinerio Più l'armatura E i warmog Nel 95% dei casi Arrivavi ad avere 2750 HP Che era la soglia di salute Per far funzionare La warmog Che era una cosa Stupida Non doveva essere così È profondamente Sbagliata Adesso Adesso Cosa significa? Non È Giusto Che vengano premiati Così tanto No Basta Per favore Basta Jungler tank Per favore L'ex GPL P800 Al momento È la scelta Meno acquistata Tra i tre oggetti Che derivano Dal nuovo Lost chapter Dal nuovo capitolo perduto Cosa fanno? Aumentano il danno di base Perché attualmente È molto basso Aumentano Aumentano la durata Del rallentamento Ma il potere magico È di 0.2 Cosa che Era già nella 8.4 Così Ma non era stato scritto Nelle patch note E viene semplicemente Riaffermato In questa patch note Armatura di warmog La soglia di salute Per ottenere La soglia di salute Per ottenere L'effetto del cuore Di warmog Semplicemente È salito Da 2750 A 3000 hp Per il motivo di prima Perché attualmente Era stupidamente facile Semplicemente Prendere l'armatura di warmog E gemma del colosso cinerio E attivare l'effetto Non puoi averlo Così presto Nella partita È sbagliato Non è giusto Rende il gioco passivo Rende il gioco Maledettamente noioso Questo è un cambiamento Che serve soltanto Tipo ai maghi In corsia centrale E basta Forse i maghi In corsia superiore E basta Cosa succede? La dimozione di danni Modus I minion Ha fatto circa Alcuni campioni Facciano fatica A sferrare I colpi Grazie sotto torre Adesso che cosa Dei fare? Quindi La torre tira due colpi E poi puoi colpire I minion corpo a corpo Con un mago Non devi autoattaccare Poi la torre Autoattacca due volte E poi autoattaccare di nuovo Adesso basta semplicemente Colpire una volta I minion corpo a corpo E preparare I minion invece Quelli I maghi I cast I caster minion Autoattaccando lì Una volta all'inizio Un colpo di torre E una volta tu Semplice e pulito Quello questo cambiamento Il buff del dragone a nuvola È una cosa che volevamo Tutti da una vita E la Riot si rifiutava di darlo Ora conferisce Il 2% Develociata di movimento Per carica A prescindere Sempre Che triplica Fuori dai combattimenti Grazie Finalmente Alleluia Era una cosa che tutti volevano Non so perché Si rifiutavano di darlo Il drago della nuvola Era letteralmente Se sponava come primo drago Sulla landa In competitivo Dicono Vabbè regà Non facciamo i draghi Mai A meno che non ci sia Nient'altro da fare Cioè se tipo Non ci sono torni Non ci sono nemici da uccidere Non ci sono minion da farmare Che facciamo Il drago della nuvola Perché non c'era altro Ma Tante volte Vedi proprio il drago della nuvola Arrivavi a 40 minuti Che era ancora lì E la gente dice Ma Perché nessuno Ah il drago della nuvola Ecco perché nessuno L'ha preso Era a quel livello Il drago della nuvola Finalmente Finalmente Le bonus statistiche Di precisione e dominazione Adesso sono Sono aumentate Di 1 E 1 Perché C'era Non so per quale motivo Non sono Non fosse già così Perché dominazione e precisione Ti dà effettivamente Questo bonus Cioè ti dà 10 E si è passata una coda 10 e 6 E al contrario Invece Non lo so Roba è a caso Veramente L'attacco sostenuto L'amplificazione di danni È stata aumentata leggermente Perché si sono accorti Che era veramente debole Su certi di carry Ed era un po' ridicolo Il piede lesto Che era uno dei motivi Per cui le bottom lane La corsia inferiore Erano così passive Cosa succede? La guarigione a distanza Sui minion Cioè se tu colpisci un minion Quando hai la carica Di piede lesto Ti cura Della metà Di quello che già curava Prima era 60 Ora è 30% Meno male Meno male La guarigione totale Di piede lesto Indicata nel pannello E rune Ora aumenta solo Quando c'è una cura effettiva Cosa significa? A volte c'era questo bug Che semplicemente Metteva Sapete che c'è un indicatore Che ti fa vedere Quanto ti sei curato Con quella runa Ecco L'hanno fixato Tutto qua Scossa il sestamento A un tempo di ricarica Aumentato Perché era veramente Stupidamente forte Top lane Wow Incredibilmente Di No Non è divertente Giocare con una runa Che ha così poco cooldown E ora la fascia del flusso di mana Ha un indicatore di ricarica E meno male Perché non si capiva mai Quando tornava Cioè dovevi farti il conto in tasca Che se avevi un paio di mani Riuscivi a farlo Però I gruppi aperti Sono una funzione carina Semplicemente Se tu hai tipo In friend list Nella lista amici Qualcuno che sta tenendo Una partita aperta Con un gruppo aperto Tu puoi unirti Fai Tic Doppio click Semplici pulito Carino Mi piace Mi piace Questo è importante Per tutti quelli che dicono Che Riot è money grabber Uno Nei forzieri ex Che è possibile trovare Solo frammenti di campioni Del valore di 4800 Sense blu O superiore Raga questa è gigante Questa è gigante C'era la gente che protestava Del fatto che nei forzieri Trovi campioni di merda Adesso è impossibile Trovi solo campioni Da 4800 Sense blu O superiore Quanto otterrete Un aspetto lume Da un forziere ex Vi darà anche 150 Sense arancioni Bonus Cosa significa Trovate un lume In un forziere Benissimo Ottenete Sense arancioni Gratis Questo è figo Gli aspetti supremi E mitici ottenuti Dal modo Saranno ora Elementi permanenti Autoriscattanti Non vi servirà Senza arancione Per potenziarli Se già possedete L'aspetto potrete Disincantare Elemento permanente Per ottenere Senza arancione Che cosa significa In un momento In un momento in cui Per puro culo Magari trovate Un aspetto supremo O un aspetto mitico L'aspetto mitico Sono quelli che crei Con le dieci gemme Che cosa succede La ottenete automaticamente È la vostra skin Disponibile subito Che io dico E worth Se al momento Avete dei frammenti Di leggendaria Di suprema Cosa potete fare Potete disincantarla E ottenere Il valore pieno Tutto qua Il costo della maestria Il campione 6 Sarà ridotto Di 800 essenze blu E il costo Della maestria Il campione 7 Sarà ridotto Di 950 essenze blu Quindi costa Un pochino di meno Aumentare la maestria Di un campione Cosa che Cioè Regà La maestria di un campione Va aumentata Proprio quando hai già tutto O quando semplicemente Hai tutti i campioni Che vuoi Non All'inizio del gioco Non capisco Perché questa cosa Ma vabbè Ok Semplicemente L'unica skin Che sarà presente Sarà il loide La resistenza Con tutte le croma Kaisa Angelo dei proiettili Con tutte le croma Perché è la skin Di lancio di Kaisa E Chogat Macchina da guerra Con tutte le croma Ovviamente E niente Questo è quanto Speriamo di vedere Kaisa e Swain Essere giocati Un pochino più spesso E beh Kaisa Perché viene rilasciata E Swain Perché è stato baffato E questo è quanto Bella